Allora, a livello di prestazione ragazzi non posso dire niente, oggi siamo trovati una squadra che, come ho detto già settimana scorsa, non rispecchia la classifica di quello che fanno in campo, assolutamente, io faccio i complimenti a loro, veramente si difendono bene, ripartono bene, hanno dei giocatori ottimi, purtroppo mi ritrovo sempre a dire le stesse cose, io pure stasera ho trovato un portiere davanti allucinante, ci ha parlato tutto, sembrava una partita stregata, fortunatamente rispetto ad altre volte siamo stati un po' più fortunati, siamo stati premiati dagli episodi, che però ne abbiamo creati tanti, poi alla fine la fortuna aiuta gli audaci, quindi oggi sono contento della prestazione, sono contento della risposta di squadra, oggi ho fatto ruotare un bel po' di ragazzi, quelli che sono venuti al campo mi sono piaciuti tutti quanti, anche chi non è sceso in campo, come al solito sta a fianco alla squadra, dobbiamo continuare con questo spirito step by step, adesso ci attende questa trasferta di Treviso dove andremo a fare il Christmas Cup, la finale, c'è una rosa credo all'altezza e speriamo di continuare così, tre punti importanti, molto importanti per la nostra classifica, adesso ci andiamo a giocare le prossime due partite, due recuperi, tranquilli, affrontiamo adesso la prossima il Peperino con una partitaccia, e oggi sono contento, soprattutto dopo l'1-1 qualsiasi squadra si sarebbe sbragata a livello mentale, invece noi ci abbiamo creduto fino alla fine, gran gol di Daniele Mariani, ma mi avviso Fabio Pentasuglia il merito è suo, perché ha creduto su quella palla scaricandola su di lui, ha rubato proprio lì davanti l'aria, questo è lo spirito che ha voluto dalla squadra, e lui da vice capitano, in quel momento era il capitano in campo, ci ha trascinato, è questo lo spirito che tutti noi dobbiamo avere e che dobbiamo continuare ad avere.